E' un edificio? Che cosa? Benvenuti in questo nuovo video, siamo qui già qui in Tresso Sotterrani che sicuramente sono della casa di uno dei più ricchi del villaggio e ne intendiamo a vedere E' un edificio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Sotterrani Abbandonata Oggi ci troviamo in un paese fantasma chiamato Santa Chiara Ospitava più di 300 persone, 300 abitanti e tutti dipendenti dall'Enel Sotterrani 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Stiamo scendendo dei sotterranei, che sicuramente sono della casa di uno dei più ricchi del villaggio e ne intendiamo a vedere. www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Questo edificio era di Mora del Custode, che diciamo sorvigliava l'intero villaggio. Come vedete è separato dall'intero villaggio, proviamo un po' a entrare dentro. Il bello di questo paese è che è stato costruito solo per gli operai che lavoravano all'Enel. Adesso è completamente abbandonato, non c'è niente. Questo è il drone che stiamo usando, il Mavic Pro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.